Ma poi in fin dei conti qual è la cosa più importante? La qualità dell'immagine o il prezzo della fotocamera che andiamo a utilizzare? Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi porto un video un po' strano che mai avrei pensato di fare. Se me l'avessero chiesto avrei negato l'evidenza, però sono qui per parlarvi di questa fotocamera, che qualcuno si ricorderà. Questa qui è una Canon EOS 700D, quindi è una fotocamera APS-C, vecchia, è una fotocamera vecchiotta. Come mai ve ne parlo oggi? Ve ne parlo perché secondo me ha un rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale. Non starò ad ammorbarvi con le specifiche perché se volete le specifiche tecniche le trovate online ovunque. Siamo sommersi di specifiche e fra l'altro è inutile che io vi porti le specifiche di questa camera perché è troppo vecchia per essere competitiva. Non è assolutamente al passo con i tempi, non è al passo con le mirrorless che ci sono in giro adesso e quindi è inutile che io stia a parlarvi di specs. Vi parlo invece di pura qualità d'immagine per quello che è il file d'uscita che esce da questa fotocamera. Io specifico fotocamera anche se questa è una camera che è in grado di fare video, ovviamente ha il solito blocco sui 12 minuti mi sembra, però è una camera che è perfettamente in grado di girare video in full HD anche con una qualità assolutamente decorosa, ma questo poi dipende dalla lente che andiamo a montare davanti, come sapete benissimo. Oggi ve la presento con il 50mm 1.4 sempre di Canon e quindi come potete vedere il corpo è assolutamente compatto, non dico che sia attascabile perché non è vero, però è una fotocamera molto comoda da portare in giro perché pesa poco, occupa poco spazio. Vi faccio notare però che il grip tutto sommato è comodo anche se si tratta di una fotocamera piccola, quindi io non mi trovo altrettanto bene su una camera piccola come questa quanto mi potrei trovare su una 5D per esempio. Preferisco un corpo macchina più voluminoso perché sta meglio nella mia mano, che non è piccola, però il mignolo anche se è al limite diciamo che sta dentro. Diciamo che è grande come una mirrorless, era già grande come una mirrorless già all'epoca, quindi un precursore se vogliamo nonostante lo specchio qui ci sia. Ovviamente parliamo di una fotocamera con il monitor orientabile, quindi ha tutti gli optional moderni, ha la compatibilità con il sistema STM, quindi dovrebbe anche essere in grado di avere una messa a fuoco continua durante i video se montiamo le ottiche corrette. Ovviamente con l'ottica che monto io no, perché questo è un 50mm che è privo della tecnologia STM. Io questa fotocamera la utilizzo esclusivamente per fare foto, l'ho usata per fare video solamente una volta, credo, perché ero in emergenza e quindi l'ho usata. Non mi è neanche dispiaciuta però non l'ho presa per questo e non è per questo che ve ne parlo. Devo anche constatare, tenendola in mano adesso illuminata dalla luce, mi casca l'occhio sulla porta microfonica, quindi nonostante non sia adattissima a fare video, devo dire che ha anche una porta microfonica, quindi io potrei attaccare per esempio il mio microfono Blue Yeti a questa camera, quindi non è neanche così malaccio per quanto riguarda le specs video. Inoltre, proprio come sulla modernissima R7 con cui sto registrando in questo momento, non so se riuscite a vedere, c'è il bottone video, quindi abbiamo il selettore con le tre posizioni che viene poi ereditato dalla R7, una cosa che a me piace moltissimo, quindi col doppio sistema operativo, se io voglio fare foto vado su on, se io voglio fare video vado alla posizione successiva e vado su video, quindi è una fotocamera e videocamera che offre un minimo di possibilità. Abbiamo nove punti di messa a fuoco che per me sono assolutamente sufficienti, anzi probabilmente sono anche troppi. Tenete conto che l'unico punto di messa a fuoco a croce, se ricordo bene, è quello centrale, per cui una volta di più su questa camera io consiglio sempre di utilizzare unicamente il punto di messa a fuoco centrale perché è il più preciso, quindi andiamo a ricomporre la nostra immagine. Vi parlo di questa fotocamera non tanto per le specifiche del body, che comunque sono abbastanza scarne perché abbiamo un bottone per la ripresa video dedicato, quindi le sue belle cosine ce le ha, abbiamo il menu, niente joystick ma abbiamo il tasto a croce per navigare nelle opzioni, il monitor e-touch, quindi un pochino la tecnologia ci viene incontro, singolo card slot, quindi card slot per la memoria SD, quella normale, batteria che probabilmente è la cosa che mi piace di meno in assoluto, batteria che non è quella dei modelli professionali ma è la LP-E8 che non fa schifo, non fa assolutamente schifo, però non è quella professionale e quindi io su queste cose storco un pochettino il naso, però vi segnalo questa fotocamera per due motivi, il primo è proprio la batteria, perché qui stiamo parlando di una fotocamera e ve lo assicuro con cui si riesce a lavorare, io con questa fotocamera ho fatto dei lavori proprio, l'ho portata su dei set fotografici per fare dei lavori e mi ha retto dall'inizio alla fine, quindi è una batteria con cui si può lavorare che comunque ti garantisce una serie di scatti non limitata. Se dovessi pensare di fare la stessa cosa con EOS M50 sarei molto in ansia, ma veramente molto, perché quella è una mirrorless con una batteria più piccola di questa che si drena immediatamente, si scarica molto in fretta, mentre questa è una fotocamera con cui io posso tranquillamente andare a fare uno shooting fotografico e secondo me 300 ma anche 400-500 scatti me li porta a casa nonostante non sia più nuovissima. Quindi è un device con cui noi possiamo serenamente lavorare. Se gli montiamo un'ottica di buona fattura portiamo a casa delle immagini di tutto rispetto. Vi faccio vedere alcune immagini che ho realizzato di recente, proprio nel 2022, con questa fotocamera. Come potete vedere da queste immagini la qualità del dettaglio è assolutamente rimarchevole. Ovviamente non abbiamo a che fare con un body pieno di megapixel, non è un sensore particolarmente prestante, non regge benissimo gli alti ISO, è un sensore APS-C ed è una camera di fascia intermedia ma più tendente all'entry level che al professionale, cioè non è una 90D per intenderci, non è neanche una 80D, quelle sono camere che reggono meglio e hanno delle caratteristiche molto più professionali a partire dai punti di messa a fuoco per finire con i codec video che hanno a disposizione. Per esempio questa camera non ha la possibilità di girare video in all-eye dove per esempio la 80D ce l'ha e la 90D pure e la 6D pure. Quindi non è assolutamente una fotocamera professionale e non è tanto da considerare come tale, ma io ve la segnalo comunque in ambito professionale perché vista la qualità dell'immagine che è in grado di regalarci e visto che ormai si trova per dei prezzi assolutamente ridicoli perché è una fotocamera che penso che sia ormai fuori produzione da un po' quindi se ne trovano ancora degli esemplari, stiamo parlando di una fotocamera con una qualità comunque, con una qualità d'immagine. È assolutamente superiore a uno smartphone per quanto il nuovo iPhone 14 Pro faccia delle belle foto, se andiamo a vedere il dettaglio, se andiamo a vedere la nitidezza che dipende in parte anche dalla lente, però appunto una lente come questa noi non possiamo montarla su uno smartphone, quindi comunque qui abbiamo un vantaggio. Se noi andiamo a utilizzare una fotocamera come questa avremo delle foto che sono comunque più ricche di dettaglio di quello che avremo la possibilità di avere su qualsiasi smartphone. Lasciate perdere la cavolata dei 50 megapixel perché i megapixel non ci servono se l'immagine non è di qualità, i megapixel sono la dimensione della nostra immagine, ma un'immagine grande se la qualità non è buona non si vede meglio, si vede solo più grande appunto, mentre qui abbiamo un'immagine che non è piccola perché siamo sui 18-20 megapixel credo, non mi ricordo neanche più, probabilmente 18 è un sensore APS-C quindi siamo sui 18 megapixel, sarebbe assurdo spingersi più su con una tecnologia così indietro negli anni, però 18 megapixel non sono pochi, tenete conto che io mi sento lievemente carente quando sono sotto i 20 megapixel però qui comunque siamo a 18 quindi ci siamo quasi, non mi sento particolarmente fuori posto a scattare con una camera come questa, mi sentirei fuori posto con la 5D originale, quelli erano 12 megapixel, per me sono un po' pochini, mi sento fuori posto con la Sony Alpha 7S3 per esempio che anch'essa ha 12 megapixel ma quella come ho già detto in un video passato che vi in card è una videocamera, è pensata per fare video e quello lo fa divinamente, ma veramente una camera allucinante però per la fotografia io non la consiglio tanto perché anche se ha una buona gamma dinamica è un po' carente sul lato megapixel, mentre con questa siamo assolutamente tranquilli, abbiamo delle immagini di tutto rispetto, ovviamente possiamo scattare in RAW e possiamo anche andare a lavorarcele, quindi abbiamo un'immagine che può anche sfoggiare una certa qualità. Io mi sono innamorato di questa piccola camera tanto tempo fa perché ho trovato un account su Instagram, pensate, faceva delle foto food spettacolari, una cosa meravigliosa e la roba vergognosa è che non mi ricordo il nome dell'account, altrimenti ve lo linkavo, non mi ricordo proprio più perché poi non è una cosa che io seguo tanto il food, quindi non mi interessava così tanto. Sono rimasto colpito dalle immagini e ho detto vediamo che cosa usa questo per scattare, sono andato a vedere e utilizzava proprio una fotocamera di questa serie, forse non era neanche questa, forse era la 650 di quella prima ancora, quindi stiamo parlando di fotocamere che non reggono bene gli alti ISO, non hanno una messa a fuoco particolarmente prestante, non hanno un sensore particolarmente potente, non abbiamo né tanti megapixel né una gamma dinamica esagerata, è una fotocamera assolutamente normale, però è una fotocamera che permette di lavorare, se la sappiamo usare bene e la usiamo in manuale riusciamo a tirare fuori delle immagini assolutamente pregevoli. La consiglio in particolare nel caso in cui si debbano fare eventi e vi faccio l'esempio specifico delle feste o delle discoteche, perché vi faccio questo esempio specifico? Per due motivi, il primo è che a questo tipo di eventi per quanto mi riguarda non ha il minimo senso presentarsi con una Hasselblad, presentarsi con un'attrezzatura costosa perché stiamo sostanzialmente andando a sfiancare la nostra attrezzatura a un evento, perdonatemi il termine, ma assolutamente futile e che finirà nella pattumiera e nel dimenticatoio prima o poi, perché non è una cosa importante, cioè una serata in discoteca è una cosa che sì, ci si perdono quei 30 secondi a fare il tag su Instagram e poi finisce nella nostra pattumiera personale, ma lo sappiamo anche noi, quindi non ha assolutamente senso presentarsi con un'attrezzatura costosa perché stiamo appunto andando a sfasciare la nostra attrezzatura, sfasciare passatemi il termine, con l'utilizzo, l'usura, se noi facciamo solo serata in discoteca stiamo pian piano andando a demolire la nostra attrezzatura per un evento di importanza assolutamente discutibile che cadrà presto nel dimenticatoio. Ora, se dobbiamo andare a un evento del genere con un'attrezzatura che costa 6.000 euro, secondo me non abbiamo fatto un buon investimento, mentre se stiamo andando a una serata con una fotocamera di questo tipo potrebbe anche essere una buona cosa. Tenete anche conto che a quel tipo di serata i fotografi vengono pagati due noccioline e una pedata nel sedere, quindi probabilmente ce ne torniamo a casa con 70 euro. Fatevi due conti e tirate a indovinare quante serate così dovete fare se vi dovete ripagare una Hasselblad. Se dovete ripagarvi una fotocamera come questa che costava nuova 500 euro, adesso probabilmente la si trova sui 200, diciamo che con quattro serate già vi siete rifatti di quello che l'avete pagata e per questo è molto interessante perché comunque è una fotocamera che non vi farà sfigurare, nel senso che la messa a fuoco non è potentissima ma funziona. Abbiamo la luce dell'assist per la messa a fuoco che già è un grande aiuto, inoltre se montiamo un flash a slitta compatibile avremo anche il beam del flash a slitta che ci aiuterà ulteriormente nell'essere precisi con la messa a fuoco. A eventi di quel tipo il flash a slitta è altissimamente consigliato proprio perché come vi dicevo non è una camera che sopporta bene gli ISO alti, quindi cerchiamo di tenere gli ISO bassi e compensiamo con il flash a slitta, magari con un pannello riflettente per avere la luce gradevole. In quest'ambito riusciamo ad avere delle foto assolutamente gradevoli e quasi alla pari di quello che otterremmo con strumentazione più avanzata perché qui la qualità della nostra fotografia la sta facendo un po' il sensore ma soprattutto l'ottica e soprattutto il flash con il nostro pannello riflettente, quindi con poca spesa riusciamo ad avere la resa massima per quel tipo di eventi. La batteria di questa fotocamera ci permette di farlo, mentre con la EOS M50 anche la Mark II io non me la sentirei assolutamente di presenziare a un evento del genere, posto che io non vado in discoteca, non faccio eventi del genere perché nella maniera più assoluta mi rifiuto, il mio tempo è investito meglio altrove. Però per quelli che si trovano in condizione di operare in quelle circostanze vi faccio questa segnalazione, questo è un ottimo compromesso per potersi recare a fare un evento del genere a livello fotografico senza spendere un patrimonio, riuscendo a mettersi in tasca dei soldi puliti e ripagandosi presto l'investimento che è stato fatto. Inoltre questa è anche un'ottima fotocamera se vogliamo fare foto di prodotto. Il fatto che sia APS-C ci dà quella lunghezza focale aumentata per cui con un 50 mm come questo, ed è questo l'ambito in cui utilizzo questa camera, con un 50 mm come questo che diventa un 80 mm moltiplicato per 1,6, si riescono a fare delle foto prodotto veramente eccezionali. La fotocamera sta su cavalletto, il punto di messa a fuoco è gestito automaticamente se si riesce ma altrimenti si va con l'anello di messa a fuoco e si gestisce la messa a fuoco a mano, quindi non c'è neanche il problema di avere la messa a fuoco poco prestante, ovviamente non è una mirrorless quindi non ha quelle prestazioni fulmine e precise, però nel momento in cui stiamo lavorando su una scena statica non ce n'è bisogno. Lavoriamo con luce controllata per cui come nel caso del flash decidiamo noi l'illuminazione quindi il problema degli ISO alti non si pone, non abbiamo problemi di messa a fuoco e gestiamo la profondità di campo in modo da avere tutto il nostro soggetto a fuoco o quasi tutto il nostro soggetto a fuoco ed ecco che con una piccola camera come questa riusciamo ad avere delle fotografie di tutto rispetto, questa è anche un'ottima camera se volete cominciare a muovere i primi passi nella fotografia di stock e di microstock, vi lascio in card i video che ho già realizzato a questo proposito, è possibile realizzare delle fotografie che vengono poi vendute online e riusciamo a guadagnare dei soldi a una sorta di cashback sull'acquisto dell'attrezzatura che abbiamo fatto. Una camera come questa è molto adatta a questo tipo di contesto perché costa poco ma ci permette di tirare fuori dei file d'uscita che sono assolutamente vendibili, ovviamente dobbiamo investire qualcosa su qualche lente, qualcosa su qualche luce, ma una volta fatto questo investimento che è veramente molto basso siamo pronti a partire e iniziare la nostra avventura anche nel mondo di microstock. Ricapitolando, questa non è una fotocamera e videocamera professionale perché non lo è, nasce come entry level, nelle mani giuste e le mani giuste possono essere le mani di chiunque abbia imparato a usarla, è in grado di tirare fuori delle fotografie che sono veramente ottime per quello che costa. Per cui siamo in grado di realizzare degli scatti che possono avere una pretesa di professionalità, ovviamente saremo carenti sotto molti aspetti, in particolare la messa a fuoco non sarà particolarmente prestante e non riusciremo a lavorare bene in condizione di scarsa illuminazione perché ad alti ISO questa fotocamera non rende particolarmente bene. Riusciamo ad arrivare massimo fino a ISO 2000, dopodiché diventano inutilizzabili. Detto questo, se riusciamo a un contesto tale per cui lavoriamo in condizioni di luce controllata, questa è una camera che tira fuori delle fotografie assolutamente spendibili anche in ambito professionale. È una camera che vi consiglio se volete stare su un budget ridotto, risparmiando magari qualche soldo per andare a investire sulle lenti. È inoltre una fotocamera con una batteria che non è quella professionale, quindi non avrà la stessa durata di una batteria professionale per delle fotocamere più avanzate, però è una batteria che ci permette di lavorare. Esiste inoltre il battery grip con cui possiamo espandere sia il tempo della batteria sia avere il pulsante di scatto anche per gli scatti verticali. Quindi è una fotocamera secondo me di tutto rispetto, me la sento di parlarvene oggi anche se è fuori produzione perché se la trovate, se volete rimanere su un budget basso e se volete cominciare a muovere i primi passi nel mondo fotografico, secondo me è una scelta di cui difficilmente vi pentirete. A questo punto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, magari qualcuno di voi ce l'ha, magari qualcuno di voi l'ha avuta, ditemi cosa ne pensate e io vi do appuntamento al prossimo video.